ciao divo fatti vedere ah miseria bello grosso dai fa vedere tutto quello che oggi sei sbizzarrito favorisco favorisco qua cercarlo è un'impresa comunque se sbizzarrito è felice fa vedere ok basta per pizza alza un po ok biscotto all'integrale ok grazie a loro ok per cucina e umino bianco bucata a mano siamo andati al gigante paolo fiore no di qua di faccia a te ecco esponi bene ecco che bella faccia ok bene san benedetto il limone si è preso il limone della san benedetto tre di queste ok poi l'acqua e le altre robe sono rimaste giù perché vabbè vabbè portarle su era impossibile oggi le patate serenella sono quelle suddivise a pacchetti questi multipacco si è la classica queste me le son presa per me pure egoismo è uno dei due dai speriamo che è scattiti poi le apriamo con loro eh devi ringraziare tutti i nuovi iscritti eh caro divo vetril vetril ok io non ho fatto ancora vedere che cosa ho preso a manualmente fiera faccio un video anche su quello più tardi rio maro rio maro ok vediamo alluminio l'alluminio l'alluminio del gigante 16 metri eh vai cipollotti i cipollotti va bene erano questi i cipollotti che mi dicevi no quelle col gambo eh la lampadina una lampada una lampada della philips arance rosse ok sono quelle da spremuta e non è finita eh ne avrete per un po' ancora patate serenella la patanara sono io eh ok la serenella chissà quando arriveranno le collaborazioni con la san benedetto qua eh stiamo aspettando o ci metto l'hashtag zuccherino zuccherino gigante aspettate che ha finito appena di sfrattare una borsa già smaltisco portando su tutta questa roba tutte e tre la portate su in un botto solo non c'è più niente ne una fai vedere tutto quest'altro sottilette ok cioccolato di qua papà cioccolato a tutto nuovi fondente dark è un po' misto ne perché lui quando si fa la zuppa di latte il signorino ce ne mette un bel po' di quella lì dentro adesso abbiamo la seconda busta eccolo lì guardatevelo tutto quanto il vostro tipo la classica va bene la farmacia vabbè poteva mai esserci diversamente questa qua è buonissima questa qua è buonissima che razza di formaggio è? comunque fa vedere formaggio e fa vedere un po' tira fuori altre robe adesso lo cerco anch'io che razza di formaggio è questo? asiago asiago dop fragoline fragole ok scusatemi il mio dito ancora una lampada ok una lampadina da 120 mille ore prezzemolo guardatelo quanto è bello col prezzemolo in mano va bene in terra va bene pugnete per il bagno ecco va bene abbiamo fatto vedere che ti lavi una lampadina da notte una lampadina da notte si la mette picco per barba ok tre lamette per la tosatura del walkie per la tosatura del walkie io do san io do san vabbè io do san sta sfrattando sta sfrattando oh mamma può venire la guerra che siamo a posto per un mese qua prosciutto prosciuttili broccoletto 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 uno sette fuori brodo le ossa si ho l'osso scusate pane pane con sesamo a fette pane indegale sesamo a fette la faccia di essere buono vabbè appoggia lì olio di semi gira solo olio di semi che gira da solo eh gira da solo ok così sapete almeno come ci laviamo il culo pettinino tanto dei capelli che c'hai è pure di marca eh oh è pure di marca della franca pro è di marca pane un pauletto no questo è pancare che pamboletto per i toast lo utilizzo un chilo di spaghettini numero tre della della barilla si ok un tre al contrario comunque vabbè un tre ecco bello papà è mental il l'airdammer che è mental ok lo starnuto del vostro divo no queste no queste sono nuove le file fondi proviamole non c'erano quelle dell'airdammer che piacciono ok ok un po' di serotonina un po' di serotonina sono in cerca dell'ormone del piacere e sono due manca la terza busta preparatevi aspettate che va a prenderla forza 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 e dai avanti avanti eccolo lì senza tagli senza tagli come se fosse dentro casa nostra aspettate che c'è la la terza botta eh sì mi sono sbizzarrita anch'io e vedi di frantumarlo prima insomma questa è la mia acqua a micellare eh girala non deve mai mancare bene per stuccarmi i ce i cellentani i cellentani cellentani si chiamano eh pasta marchio gigante cottura 8 minuti mezzo chilo ah le caramelle aribo limone e zenzero ok ok l'indicchia ok in tutto questo si è scordato il semolino i ditalini i ditalini rigati il gigante va bene il ringo il ringo le conchigliette alza un po' voglierlo si eh e dai e tander de ceco che razza penne piccole rigate va bene ancora penne piccole rigate due ok credo che sia molto bianco si gli schiaffoni di Armando gli schiaffoni di Armando va bene gli schiaffoni saranno i conchiglioni questi alza un po' che non si vedono conchiglioni ricati sede cecco ok pasta di semola e che non lo so fai vedere gigli casarecci alza un po' gigli casarecci gigli i gigli ok 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 poi non c'è più niente se non c'è più niente devi salutare i tuoi follower c'è altro c'è altro abbiamo finito allora e cosa c'è in macchina ci sono soltanto le tramezze e quello che serve a me e basta saluta i tuoi nuovi followers che ti amano ciao a tutti buona domenica domani oh iscrivetevi al canale ciao ciao